Si avvicina la commemorazione dei defunti e in arrivo anche aggiornamenti su quanto deciso dal Comune in merito alle possibilità di accesso al cimitero Angeli, dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio per i giorni che vanno dal 30 ottobre al 2 novembre. Proprio in questi giorni non si potrà accedere con le proprie auto né da né per il cimitero. Sarà il personale del comando della Polizia Municipale a garantire una maggiore sicurezza di accesso al cimitero e di rispetto del divieto di accesso veicolare per tutti e quattro i giorni. Proprio per fronteggiare i limiti del traffico veicolare è stato attivato il servizio navetta che seguirà un percorso particolare. Si avrà il capolinea in corso Umberto, isola pedonale vicino al comune. Passerà poi da Corso Vittorio Emanuele, via Medaglie d'Oro, via Angeli ed infine Piazzale Cimitero. Da lì il percorso sarà ripetuto al ritorno. Il servizio navetta sarà comunque operativo dalle 7.30 del mattino alle 17.30 gratuitamente per i quattro giorni dal 30 ottobre al 2 novembre.